Ringrazio il partito per la fiducia, ringrazio voi del provinciale, è un onore averti Lara, io ho una grande simpatia personale nei tuoi riguardi e ti ho sempre seguita e anche a Somma ti amiamo molto, quindi è un impegno mio, è scritto bene nel mio programma che noi vogliamo potenziare l'ufficio Bandi, tu per noi sarai una referente e quindi vogliamo che si possa fare in modo che i fondi europei possano arrivare anche a Somma Lombardo e che si possa fare sinergia. Come hai visto questa è una squadra di tante donne, io ho puntato molto sulle donne e sono tutte donne con gli attributi, donne che hanno voglia di mettersi in discussione, che come me sono mamme, hanno famiglie e quindi che tolgono del tempo alla propria vita personale per dedicarlo alla famiglia però che credono come me in questo obiettivo. Quindi ragazzi carichi, mancano le ultime settimane, dobbiamo fare lo sforzo più grande, dobbiamo convincere i nostri elettori che noi non siamo i signori del no, come ci hanno dimostrato in Consiglio Comunale l'opposizione attuale che si sta proponendo con arroganza e prepotenza, pensando di avere già vinto le elezioni, le elezioni non le hanno vinte, ce le giochiamo il 31 di maggio e quindi fate in modo che tutte le persone che voi conoscete possano contare sulla vostra presenza in Consiglio Comunale e che io sarò un sindaco della nostra città e dei nostri cittadini.